Il sindaco Giuseppe Pitta ha comunicato che a Lucera sono quasi 400 e casi positivi attualmente, 20 casi in più si sono registrati nell'ultimo rilevamento. Purtroppo continuano anche i decessi a causa del Covid. La situazione resta preoccupante a Lucera e in provincia di Foggia, dove i dati vanno in controtendenza rispetto al resto della Puglia e dell'Italia. Dopo aver ascoltato le decisioni del Governo e della Regione, dopo aver compiuto la riunione con i capigruppo, il sindaco di Lucera ha prolungato l'ordinanza di sospensione delle elezioni in classe fino al 22 dicembre. È assicurata la didattica a distanza, mentre la didattica in presenza si svolgerà solo per gli alunni con bisogni speciali che vorranno avvalersene. Pitta ha ribadito che per il periodo di Natale delle festività, in linea con le disposizioni del DPCM di Conte, ci saranno restrizioni per evitare il rischio contagio, come la chiusura delle attività commerciali nei giorni festivi e per i servizi di ristorazione sarà consentita solo la consegna a domicilio. Giovedì 3 dicembre in Puglia sono stati registrati 8.753 test per l'infezione da Covid-19, sono stati registrati 1.602 casi positivi. 721 in provincia di Bari, 147 in provincia di Brindisi, 177 nella provincia Bat, 250 in provincia di Foggia, 135 in provincia di Lecce, 163 in provincia di Taranto, 14 residenti fuori regione, 5 casi di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti. Sono stati registrati 42 decessi, di cui 6 in provincia di Foggia. Attualmente in Puglia sono 41.749 i casi positivi. A Troia nasce Non lasciamoli soli, rete sociale solidale voluta dall'amministrazione comunale, la rete costituita da associazioni di volontariato e cittadini al fine di dare supporto alle persone sole, agli anziani in particolare, a chi sta vivendo nel disagio e con gravi difficoltà la pandemia. Per loro il Comune di Troia ha pensato alla creazione di una rete sociale solidale in grado di offrire aiuto concreto, come pagare bollette, ritirare ricette mediche o anche solo telefonare a chi è rimasto solo e ha bisogno di una voce amica. È un servizio di supporto ai progetti pronto farmaco e pronto spesa già attivi a Troia da marzo scorso grazie all'associazione Tour 27. Il Comune, grazie alla collaborazione di questa associazione e anche dell'Associazione dei Carabinieri in Congedo, metterà a disposizione un numero di telefono al quale segnalare casi di persone in stato di bisogno. 39 team con circa 500 studenti che hanno preso parte agli speech animati da ospiti nazionali ed internazionali, 5 imprese e 100 partecipanti alle sfide. Sono questi i numeri complessivi della prima edizione del Talent for Career, la virtual fair organizzata dal Career Development Center e l'area orientamento e placement dell'Università di Foggia. La virtual fair, realizzata in tre giorni durante la seconda ondata della pandemia, ha offerto esperienze formative eccellenti e vere opportunità di cooperazione tra università ed imprese. Gli speech motivazionali sono stati condotti da ospiti di altissimo livello nazionali ed internazionali che hanno suscitato uno straordinario interesse di partecipanti, da Oscar De Montigny, manager di Banca Mediolanum, a Sandro Formica, professore di scienza della felicità presso la Florida International University.